Musica è stato il trattato, è stato il trattato è stato il trattato, per cui si riceveva la medicazione come and I'll stop with the phone and I'll ask if you want to receive my family and there's a few mia disponible but I'll start with the new family and the new family and the new family and the new family and the new family so we'll get food everyone got it back to go home and eat with their family and the new family yes wow 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 Non, 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 non. se si è inciente, come se si è inciente se si è inciente, come se si è inciente passi sì, sì baby oh 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 come si è inciente? 2 mesi 2 mesi 1 mesi 2 mesi 2 mesi i mesi i mesurati i mesurati il quello che ora acquistare 2 mesi wired Sì 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 Let's go Sì È sempre Commercio bello tippi come è bello tippi mi chavo va bene tu ti 4 ore si ci sono 4 ore ok bello ok 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 se c'è lui? come va? non mi sembrava? non mi sembrava che sovra oh baby sta facendo, signor? non, ok, ok sta facendo Aspetta Excusez-moi Excusez-moi Il est Il est Il est Il est Il est Grazie a tutti.